bentornato gutier bentornata andiamo avanti nella descrizione di windows 10 è ora il turno di parlare dell'assistente vocale di windows chiamata cortana cos'è è un assistente vocale digitale lo scopo è aiutarti nell'uso del pc o dei dispositivi che hanno installato windows 10 con le attività quotidiane maggiore sarà il tuo utilizzo più personalizzata alle tue esigenze sarà l'esperienza d'uso di cortana e le performance dei suoi risultati come funziona se hai la necessità di cercare qualche informazione su internet all'interno del tuo computer o avviare un'applicazione puoi utilizzare l'assistente nella barra delle applicazioni trovi una casella con cui puoi interagire all'interno della quale c'è scritto chiedimi qualcosa qui a distanza cortana potrai digitare all'interno di questa sezione quello che cerchi o ciò che vuoi realizzare in alternativa se hai un microfono collegato al tuo computer cliccando sull'icona relativa potrai parlare direttamente con l'assistente per chiedere informazioni o avviare programmi con un tempo variabile ma di norma molto breve in base all'elaborazione della tua richiesta l'assistente ti evidenzierà ciò che hai cercato nella colonna della sua sezione o eseguirà quanto richiesto nel limite dei moduli presenti all'interno del software per il microfono è necessario che sia attivo funzionante e configurato come puoi fare dalla sezione delle impostazioni clicca sulla sezione data ora e lingua di qui troverai una sezione microfono seleziona il cursore in alto attivandolo qualora già non fosse attivo eventualmente in questa zona trovi altri cursori che puoi attivare in base alle necessità in modo da consentire a queste applicazioni di poter utilizzare il microfono poi regati nella sezione riconoscimento vocale input penna e digitazione ed infine trova il pulsante per iniziare sotto la sezione microfono troverai questa schermata di dialogo potrai configurare il microfono in base alla tua voce per migliorare i risultati di acquisizione delle informazioni ora sotto ancora la sezione informazioni correlate e quindi clicca sotto la frase relativa alle impostazioni sulla privacy entrerai in quest'altra sezione dove trovi la scritta info su di te ossia windows e cortana in questo modo hanno la possibilità di riconoscere la tua voce o il tuo modo di scrivere per migliorare i risultati sarà sufficiente cliccare sul pulsante familiarizza con me per attivare questa funzionalità ovviamente disattivandola verranno anche cancellate le informazioni raccolte dal dispositivo su di te oltre a essere disattivata la dettatura all'assistente una volta che è attivato puoi naturalmente disattivare questa funzione cliccando di nuovo sopra questo pulsante la lista delle operazioni che ti permette di eseguire l'assistente è molto ampia eccone un piccolo accenno potrai visualizzare promemoria in base a data ora luoghi o persone o monitorare dei pacchi la tua squadra preferita i tuoi hobby interessi oppure un volo inviare email o sms gestire il tuo calendario e mantenerti aggiornato creare e gestire elenchi chiacchierare oppure giocare trovare dei dati dei file ricerca di luoghi oppure informazioni generiche aprire una qualsiasi applicazione ottenere informazioni su condizioni mete o temperatura ottenere anche notizie varie su diversi argomenti ascoltare musica oppure riconoscere una canzone eseguire operazioni matematiche impostare un allargo una sveglia ottenere informazioni su traffico e percorsi naturalmente un po di trattenimento e molto molto altro ancora tutte queste opzioni possono essere attive o meno a seconda del tipo di dispositivo e di programmi installati all'interno del dispositivo stesso inoltre sulla colonna di sinistra all'interno dell'interfaccia di cortana trovi dei pulsanti che sono home appunti impostazioni e feedback il pulsante home ti riporta alla schermata iniziale di cortana il secondo pulsante ti permette di prendere appunti rapidamente con impostazioni gestisci i settaggi di cortana mentre con l'ultimo puoi inviare dei feedback per l'assistente come contorno se hai un telefono con windows installato oppure un qualsiasi altro telefono con l'assistente cortana installata potrai sincronizzare le notifiche tra il computer e il cellulare potrai avviare anche il dialogo diretto con l'assistente cortana in automatico se esegui un'impostazione ben definita regali appunto nella sezione delle impostazioni dell'interfaccia di cortana e individua l'opzione permetti a cortana di rispondere a ei cortana e attiva naturalmente questo cursore ora senza cliccare sull'icona del microfono potrai semplicemente chiamarla ed interagire con lei dicendo semplicemente ei cortana aggiungendo poi la ricerca che vuoi eseguire sta a te determinare la varietà di informazioni e modus operanti nell'interazione con l'assistente non limitando la tua creatività nel sapere cosa chiedere per il completo funzionamento è anche necessario l'accesso alla posizione e all'account microsoft nel qual caso l'assistente stessa te lo notificherà per completezza la microsoft indica che alcune funzionalità dell'assistente potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi infine una nota sulle ricerche cortana utilizza il motore bing e tutte le sue ricerche vengono memorizzate per renderlo più personalizzabile alle tue aspettative ma possono essere cancellate dall'icona a forma di libro cliccando sul pulsante gestisci tutto quello che cortana sa su di me si acceda ad una pagina dove poter rimuovere i dati memorizzati nel caso tu voglia dicendo la parola aiuto o scrivendola nella zona relativa potrai ricevere informazioni sui comandi da impostare e quello che potrai chiedere in base alla categoria le informazioni descritte si riveniscono alla versione windows 10 anniversary update quindi eventuali differenze sono possibili in successivi aggiornamenti o se tu possiedi una versione non aggiornata a quella dell'anniversario ultima cosa cortana si può non utilizzare se vuoi ma la sua disattivazione ad oggi può avvenire solo agendo nel cuore del sistema operativo nel registro se non la vuoi utilizzare nascondi comunque l'interfaccia cliccando in una zona vuota della bara delle applicazioni con il tasto destro del mouse individua la sezione cortana e potrai inserire la spunta sulla voce nascosta oppure lasciare la casella completamente in visione oppure una semplice icona di richiamo allora guter eccoci in zona pratica andiamo subito a vedere come si comporta cortana in assenza di connessione internet come vedi in basso a destra non ho alcuna connessione puoi cliccare sul pulsante microfono e chiedere qualcosa a cortana che ore sono adesso non posso connettermi riprova tra alcuni istanti come puoi vedere in assenza di connessione di internet cortana non può esserci utile quindi diamo la connessione ad internet andiamo a individuare la zona relativa e attiviamo la rete eccoci riproviamo e vediamo cosa dice che ore sono in questo momento a cisterna di latina sono le ore 16 e 25 ovviamente io non mi trovo a cisterna di latina ma dato che non ho attivato la geolocalizzazione individua il punto più vicino a dove mi trovo in questo momento comunque puoi vedere che già è molto performante dall'interfaccia che trovi in basso a sinistra puoi scrivere qualcosa direttamente ripetiamo quello che ho appena chiesto e come vedi le informazioni in questo caso non sono in termini vocali perché non ho interagito con il microfono ma semplicemente ha una digitazione all'interno della casella destra lui mi risponde in base a una ricerca posso anche eseguire delle ricerche scritte o vocali ma andiamo a vedere prima la descrizione dell'interfaccia qui trovi un pulsante tipo libretto che evidenzia i vari possibili alti pulsanti il pulsante home ti riporta all'interfaccia principale il pulsante appunti ti consente di accedere al programma che ti permette di prendere appunti per poter ricordare qualcosa effetto tipo post it ma come dicevamo nella descrizione didattica per la completezza dell'utilizzo di cortana è necessario accedere in questo caso specifico con un account microsoft andiamo avanti nella sezione impostazioni abbiamo la possibilità di gestire le impostazioni di cortana mentre il pulsante finale feedback ti permette di inviare feedback commenti o suggerimenti alla microsoft per migliorare l'esperienza d'uso di cortana prima di utilizzare l'assistente in realtà l'ideale sarebbe quello di andare a configurare il microfono quindi cliccando sul pulsante start individua il pulsante degli ingranaggi impostazioni quando si apre l'interfaccia delle impostazioni di windows clicca su data ora e lingua all'interno trovi la sezione relativa a riconoscimento vocale qui trovi la sottosezione microfono cliccando su per iniziare hai la possibilità di configurare il microfono che utilizzi per migliorare l'interazione della tua voce con cortana stessa quindi clicca su per iniziare qui puoi accedere anche qualora si presentasse qualche problema di interazione tramite il microfono naturalmente individua il pulsante configura microfono eventuali note possono essere utili per un eventuale soluzione clicchiamo in questo caso anche se notifica un alert un avviso clicchiamo su avanti ora il sistema presenterà una frase che dovrai leggere per poter far acquisire il tuo accento la tua cadenza al microfono per poter essere configurato andrea detta il testo al computer preferisce la dettatura alla digitazione e soprattutto all'uso ecco qua non è stato necessario nemmeno terminare la frase perché il microfono risulta configurato questo punto clicca su fine e una nota verde ti notifica che la configurazione è stata terminata in basso trovi anche un altro pulsante impostazioni correlate relative alla privacy cliccandoci sopra puoi decidere se windows e cortana possono riconoscere la voce e quindi il metodo con cui parli ed eventualmente anche la grafia per migliorare l'esperienza d'uso puoi interrompere in qualsiasi momento l'acquisizione di queste informazioni delle due ricerche cliccando sul pulsante disattiva oppure qualora fosse già disattivo cliccando su familiarizza con me consentirai a microsoft e accortata di riconoscere la voce e memorizzare le ricerche che eseguirai in questa zona trova anche il pulsante microfono che naturalmente dovrà essere attivo quindi se questo cursore non fosse colorato attivano per far sì che il microfono possa funzionare anche qui puoi decidere nella zona sottostante in base al tipo di applicazioni che si presentano parzializzare l'utilizzo del microfono disattivando i programmi che non utilizzi e quindi impedendo che questi programmi possano accedere al microfono stesso considera che questa inibizione può inficiare l'utilizzo dell'applicazione qualora tu utilizzassi non tanto il pc quanto uno smartphone o un dispositivo mobile con windows 10 installato bene chiudiamo e torniamo a parlare con cortana a questo punto torniamo nel pannello e per cui riguarda le impostazioni una cosa importante potrebbe essere quella di consentire a cortana di rispondere a e cortana così sarà sufficiente parlare chiamando l'assistente senza cliccare sul pulsante del microfono attiviamo ovviamente questa opzione e vediamo se ci risponde e cortana che ore sono a cisterna di latina sono le ore 16 e 35 come vedi in questo caso senza premere il pulsante cortana ha risposto egregiamente andiamo avanti nella lettura delle impostazioni qui puoi aggiungere un segno di spunta per impedire che il dispositivo vada in sospensione mentre è collegato in modo da mantenere sempre attiva la connessione tramite cortana c'è da dire che se il microfono è posizionato in un appartamento di un unico livello più o meno al centro dell'edificio cortana è in grado di acquisire la tua voce quindi sentirti da qualsiasi punto della dell'appartamento e quindi diventa molto performante qualora il tuo pc o il tuo dispositivo sia connesso ad una rete di domotica per la gestione anche di elettrodomestici qui puoi anche attivare o disattivare l'utilizzo di cortana al dispositivo se è bloccato ma è conveniente a lasciarlo attivo un ulteriore segno di spunta consente a cortana di accedere al calendario e mail messaggi dati di power bi che un centro elaborazione di dati della microsoft questo segno di spunta ti permette di abilitare o meno la notifica di presenza di cortana saltuariamente fornendo richieste o informazioni più o meno utili qui altro cursore che permette l'invio di notifiche tra i vari dispositivi e quindi l'interazione tra tutti i dispositivi se sono sincronizzati scorriamo altri due cursori che permettono di gestire la cronologia delle ricerche che farai di volta in volta e l'utilizzo dei dispositivi e anche volendo cancellare la cronologia dello stesso e altre impostazioni relative alla privacy state con un po di pazienza individuare quale sono le parti che più o meno ti servono o permettono di migliorare l'esperienza d'uso dell'assistente andiamo adesso a simulare qualche altra richiesta un po particolare qualora avessi qualche problema puoi chiedere all'assistente di aiutarti sulla gestione del suo funzionamento semplicemente scrivendo nella casella di testo la parola aiuto o più semplicemente dicendo ehi cortana aiuto ecco qua ti ti dà alcune indicazioni di ciò che può fare cortana e in base alla categoria date scelta puoi eseguire ricerche o ottenere informazioni prendiamo il primo ad esempio parliamo un po di divertimento puoi semplicemente chiedere a cortana ehi cortana raccontami una barzelletta qual è il colmo per un dentista essere incisivo ehi cortana aiuto andiamo su un'altra categoria magari un po di finanza ehi cortana qual è il valore in euro di un dollaro come puoi vedere apre tramite il motore di ricerca bing il browser microsoft edge e dai i risultati che ti fornisce puoi ottenere queste informazioni proviamo ora con un'informazione sul tempo ehi cortana che tempo fa a roma cercherò quell'informazione per te mi serve qualche informazione per aiutarti mi serve la tua posizione ovviamente in questo caso non ho attivato la geolocalizzazione e quindi se clicchi su in seguito non sarà in grado di fornirti queste informazioni proviamo a ottimizzare la ricerca di cortana quindi si aprirà la zona relativa alla geolocalizzazione e clicchiamo sul pulsante di attivazione della posizione il pulsante modifica ti evidenzia lo stato in questo caso è attiva riproviamo e cortana che tempo fa a roma cercherò quell'informazione per te posso iniziare appena accedi in questo caso cortana ci chiede di accedere tramite l'account microsoft quindi forniamo le impostazioni dell'account microsoft come vedi una volta che arrivano le notifiche di avvenuto accesso possiamo ottenere le informazioni relative ma noi riproviamo a voce ehi cortana che tempo fa a roma a roma la temperatura è di 13 gradi con sole e come vedi possiamo ottenere informazioni in tempo reale ovviamente l'utilizzo che ne farai dipenderà molto dall'interfaccia del dispositivo con eventuali altri sensori oppure altri programmi ci sarà l'opportunità anche di avviare i programmi tentiamo con ei cortana apri esplora file ok sto avviando esplora file e come vedi il risultato è molto performante e cortana apri il fan view certo quale il fan view help il fan view il fan view 64 4.42 va bene sto aprendo il fan view 64 4.42 come puoi vedere qualora ci fossero dei risultati ambigui e non sapesse cosa fare ti chiede una conferma o maggiore spiegazioni chiudiamo i programmi appena aperti e così ti sarai reso conto ti sarai resa conto della qualità di questo assistente e come dicevo puoi interagire in maniera molto diversificata il tutto dipenderà dai moduli che l'assistente avrà installato quindi c'è da aspettarsi che con il passare del tempo verranno aggiunti i moduli dalla Microsoft e quindi l'esperienza d'uso dell'assistente migliorerà di volta in volta per divertirci facciamo qualche altra domanda e cortana fammi ridere partita a carte fra cagnolini io ho full dossi io ho 3 setter cocker ho vinto ehi cortana come ti chiami mi chiamo cortana ehi cortana conosci siri ho sentito parlare di lei ma non ho avuto il piacere di conoscerla ehi cortana cosa mangi non mangio ma dicono che il cibo sia buono ehi cortana sono triste la vita è così un attimo sei su e l'altro giù ma non bisogna abbattersi mai un abbraccio anche filosofa ehi cortana chi è tuo padre tecnicamente parlando sarebbe bill gates ehi cortana ti piace siri abbiamo alcune cose in comune per esempio entrambe utilizziamo bing come motore di ricerca proviamo con i trasporti ehi cortana autobus metropolitana bene dove sei diretto piazza del colosseo roma ok sto cercando le indicazioni per piazza del colosseo come vedi ora apre la piantina rispondiamo naturalmente sì a questa domanda attendiamo l'elaborazione e come possiamo vedere in questo caso la localizzazione non è molto precisa perché mi trovo in un appartamento e non è possibile attivare il gps ma avviando tramite un dispositivo mobile certamente questa indicazione sarà molto più attendibile veritiera una volta fornito l'accesso all'account microsoft cortana diventa completo e lo puoi vedere anche dall'interfaccia che compare e i pulsanti che trovi in uso come la sezione appunti che ti permette di ottenere un premivoria in base alle tue necessità potrai cliccando sul pulsante più inserire cosa ricordare se è riferita a una persona luogo a un orario eventualmente aggiunta di una foto e otterrai il premivoria relativo come puoi vedere il numero di pulsanti è molto vasto e in base all'utilizzo che vorrai implementare potrai decidere se aggiungere programmi moduli relativi a una determinata funzionalità per poter migliorare l'utilizzo del computer nelle attività quotidiane e soprattutto anche nel lavoro se non utilizzi cortana o non lo vuoi utilizzare ad oggi non è possibile disattivarlo però puoi o ridurre o eliminare la sua interfaccia cliccando con il pulsante destro nella barra dell'applicazione individua la voce cortana puoi decidere di nasconderla completamente oppure semplicemente trovare un'icona più piccola in base alle tue esigenze o in base all'utilizzo che pensi di farne l'assistente tutto sommato ad oggi è molto performante ma il suo utilizzo vero e proprio dipenderà ovviamente verso cosa è interfacciato soprattutto in relazione ad eventuali sensori o modulistica presente in una abitazione dedicata all'uso dell'assistente vocale come nota a margine ricorda eventualmente è possibile anche installare l'assistente cortana su dispositivi mobili anche se non sono della microsoft come cellulare android o iphone bene nella prossima lezione continuiamo il percorso didattico su windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima ciao a presto